Ciao a tutti belli e brutti, io sono Oski e oggi siamo tornati in questo mio nuovo video. Sono appena finiti i sorteggi di Europa League, però parlerò anche di quelli di Champions di ieri. Allora, iniziamo da quelli di Europa League, che sono quelli che mi interessano di più. Allora, sto prima a leggervi tutti, poi facciamo un commentino veloce, insomma me li sono scritti. Allora, girone A, Bayer-Reverkusen, Ludo Goretz, Zurigo e Larraca, che non so che cazzo di squadra sia. Girone B, abbiamo Salisburgo, Celtic, Lipsia e Rosenborg. Girone C, Zenit, Copenhagen, Bordeaux, Praga. Girone D, Anderlecht, Fenerbahce, Dinamo, Zagabia, Trnava, Ternava. Girone Arsenal, Sporting Lisbona, Carbaghe e Vorskla. Girone F, Olympiacos, Milan, Real Betis, Dudelange. Girone G, Vienna, Spartak Mosca, Iran e Rangers, Glasgow. Girone H, abbiamo la Lazio, con il Marsiglio, Francoforte e l'Apollone, Limassol. Girone I, abbiamo il Vigitas, il Genk, il Malmo e il Sarbork. Girone G, abbiamo il Siviglia, il Krasnodar, il Standard-Legi e l'Akisarspor. Girone K, abbiamo Dinamo Kiev, Astana, Rennes e Jablonek. Girone L, abbiamo il Celsic, il Pauk, Salonico, Vatelborzo e il Vidi. Bene, partiamo dal 1.000. Allora, sinceramente si poteva fare un po' di meglio, però si poteva avere anche di peggio, insomma. Non mi lamento assolutamente, però ci sono delle squadre che mi fanno un po' spaventro. Prima di tutti, alcuni hanno già sentito che hanno detto che l'Olimpia Corso, più che l'Olimpia Corso perché era in prima fascia e non in seconda, ma soprattutto il Betis, il Siviglia, mi fa molta paura perché l'anno scorso, l'anno scorso mi ricordo che è inizio stagione, una amichevole prestagionale che giocavamo a Catania, non so perché giocassimo a Catania, comunque vabbè. Che finito, beh, perdemmo 2-1. E secondo me quelli del Siviglia non avevano capito che era un amichevole. E comunque si divertivano a menarci. Ci hanno proprio menato in quella partita, proprio male. Cioè, vedi, proprio gambe che saltavano, già tanto se non si è rotto qualcuno. Hanno espulso il loro secondo allenatore, mi ricordo, perché chiedevano rigore, rigore. L'arbitro era italiano, che cazzo gli voleva dire? Scusate, non so, magari non parla neanche lo spagnolo. Scusate, ho perso la ciabatta sotto la scrivania. Insomma, questo Betis qua mi fa un po' di spavento. E poi ci abbiamo l'Olimpia Coschi. Sì, l'Olimpia Coschi è l'Olimpia Coschi, ragazzi, una delle squadre greche più forti di tutti, che hanno fatto in Champions. Comunque, poi abbiamo il Duda Lange, una squadra lussemburghese. Comunque, l'Olimpia Coschi e il Betis, io vedo il mio mirano un po' più, un gradino un po' più alto di queste due squadre. Però, resta un punto di domanda. Sobretutto io ho molta più paura del Betis Siviglia. Quindi stiamo a vedere. Ora invece parliamo della Lazio. Lazio veramente è sfigata nera, perché si è beccata, oltre essendo in prima fascia, e vuol dire avere un vantaggio in più, perché comunque tu sei la squadra che si è in prima fascia, vuol dire che sei più forte delle altre. Lazio si prende il Marsiglia, il Francoforte e l'Apolloni-Masson. Bene. Allora, innanzitutto non capisco perché il Marsiglia, che è arrivato in finale, era uno scorso, perdendo male, però è arrivato in finale, lo scorso, sia in seconda fascia, mentre in prima fascia abbiamo... In prima fascia c'erano Leverkusen, Salzburgo, Zenit, Anderlecht, Arsenal, Olympiacos, Via Real, Lazio, Besiktas e Siviglia, Dinamo-Kiev e il Chelsea. Voi mi volete dire che il Dinamo-Kiev è più forte... Dov'è? Del Marsiglia? No. O anche del Via Real, semplicemente? Comunque. Non capisco veramente. Come non capisco veramente come è possibile che il Francoforte sia in terza fascia? Secondo me il Francoforte dovrebbe essere in seconda, perché in seconda fascia abbiamo il Ludo Goretz, che secondo me non è da seconda fascia, poi è ovvio che il ranking è così, ma secondo me il ranking è una pure... è veramente cagata, perché il ranking a me sembrano quasi quasi una scusa, eh ma il ranking... Ma scusa, ma cazzo, se è più forte è più forte, che cazzo me ne frega del ranking? Il ranking secondo me è una cagata assurda, perché una squadra può vincere e perdere contro qualsiasi squadra. E' ovvio che una squadra è più forte dell'altra. Cioè, è come dire più brava più forte. È diverso dire più brava o più forte. Più forte vuol dire che è più forte fisicamente e tecnicamente. Ma più brava cosa vuol dire? È diverso dire più brava o più forte. Le cose sono... sono distingue. Mi fa veramente incazzare, perché la Lazio si piglia, la Lazio... cioè, si piglia la Marsiglia, il Francoforte, la Polo Limassolo, vabbè, che è la quarta fascia della Europa League, cioè si prende proprio delle merde. Allora, però la Lazio ce la può fare, perché ha un attacco della Madonna, l'abbiamo visto in campionato, l'abbiamo visto anche l'anno scorso, che se si inventevano, non facevano una figura di merda col Salisburgo l'anno scorso, potevano arrivare anche in semifinale, perché il Salisburgo l'anno scorso è venuto in semifinale, passa in semifinale col Marsiglia, che è anche il rune con la Lazio. Quindi la Lazio, con l'attacco della Madonna che ha, può farcela. Può farcela però se Inzaghi sistema sta cazzo di difesa, siccome lo Tito ha sostituito da Defrae con la Cerni, consiglio a Di Inzaghi di migliorare la difesa, perché è veramente scandalosa. Però, se migliora la difesa, la Lazio può andare, può fare ancora meglio della scorsa stagione. Però è uscita veramente male la scorsa stagione. Comunque, vabbè, penso proprio che la Lazio si mette a posto la difesa, ce la possa fare. Ora passiamo alla Champions. Incazzatura a Egoduria, anche qua, perché vi leggo solo quelli dell'italiano, perché le altre non me ne fregano che un cazzo, sinceramente. Giorno sì, Napoli ha preso il PSG, il Liverpool e la Stella Rosso. Penso che così, Napoli, peggio di così, non poteva andare. Allora, il PSG, cioè, cosa puoi dire sul PSG? Squadra fatta con i soldi, grandi campioni, varrati nei mar, Mbappé Cavani, extra nel Napoli. Qui Carletto Celotti doveva fare un vero e proprio, non dico miracolo, però, però deve veramente ingegnarsi, perché non capisco poi perché il Liverpool sia, con sto cazzo di ranking, sia in terza fascia. Che è andato in finale l'anno scorso? Minimo, me lo aspettavo in seconda fascia, perché se la prima fascia c'è il vittorio della Champions, il vincitore della Champions, il vincitore dell'Europa League e sei campionati maggiori, il Liverpool lo metterà nella seconda. Invece nella seconda c'era il Manchester United. Boh, vabbè, sto cazzo di ranking. E poi la Stella Rossa, Stella Rossa a Belgrado, che non è affatto semplice giocare là, in casa loro, veramente che, se gli gira male, ti buttano giù lo stadio, sicuramente. poi lo scontro tra i napoletani e i tifosi della Stella Rossa, voglio vedere io, cazzo, cazzo succede. Vabbè. Poi andiamo avanti, è la Roma che si piglia al Real, però ha due squadre un po' molto al di sotto di loro, che sono il CSKA e il Puz. Ah, e ricordiamo anche che chi arriva a terzo comunque va in Europa League. Sì. Il Napoli però ci deve porare, ci deve provare assolutamente e non deve fare assolutamente come ha fatto l'anno scorso con l'Europa League proprio snobbata da Sarri. Non so se fosse Sarri che decidesse di non fare apposta l'Europa League o il CSKA Laurentiis. Comunque, il Napoli ci deve provare, perché non si può fare la figura di merda dell'anno scorso. Il Real, la Roma becca il Real, però ha due squadre al di sotto di loro, quindi la Roma, se si la gioca bene con il Real, potrebbe arrivare prima, però è molto potenziale che arrivi anche a seconda. Non penso arrivi in semifinale come l'anno scorso, perché l'anno scorso c'è un unico miracolo, però c'era una specie di magia che la Roma ribaltasse e ci giocava solo in casa la Roma, praticamente. Poi abbiamo la Juventus gruppo H che ha ubicato il Manchester United che non capisco perché sto cazzo di ranking sia in seconda fascia. Il Valencia e i loro Young Boys è abbastanza fortunato la Juve perché poteva beccarsi altre squadre molto più forti del Manchester United e molto più forti del Valencia. E poi si biglia i loro Young Boys che, vabbè, la Juventus può tranquillamente arrivare prima in questo girone perché con la squadra che ha. Poi abbiamo il girone B d'Inferno per l'Inter che si becca il Barcellona, il Tottenham e il Piaz Vendoven. Piaz Vendoven campione di Olanda, Barcellona campione di Spagna e Tottenham che è il Tottenham perché l'attacco della Madonna è difesa così così, però il Tottenham è cazzo. Allora, io consiglio all'Inter veramente tanto godo, godo, godo perché non so se avete visto lo stemma ma sono proprio dell'Inter quindi vaffanculo agli interisti vaffanculo se andate in Champions spero proprio ne prendiate sette perché se giocate come avete giocato col Torino e col Sassuolo spero proprio ne prendiate sette e sette otto partita però per passare dal lato umano e dal lato italiano l'Inter col Barcellona non se la gioca assolutamente no, non se la può giocare in casa in trasferta è molto difficile e comunque sì c'è comunque anche lì il terzo posto c'è comunque il terzo posto per l'Inter per andare in Europa League quindi in Champions consiglio all'Inter a Napoli che hanno subito delle cose di provarci la Lazio secondo me ce la può fare assolutamente anche l'Inter e il Napoli ce la possono fare assolutamente non lo metto in dubbio però molto più difficile soprattutto il Napoli che è un girone veramente di merda proprio il peggior girone forse che c'era forse l'ultimo l'ultima al posto della Stella Rossa avrebbero potuto prendere qualcun altro ancora più forte però la Stella Rossa in casa fa davvero paura sull'entrare nello stadio e niente alla Lazio invece consiglio veramente di sistemare la difesa perché se no non può andare da nessuna parte né qua né in campionato bene come al solito questi sorteggi fanno veramente schifo e cazzo perché non è possibile che ci siano dei gironi come Lazio Marsiglia Francoforte e Apollona uno di Masso e ci siano dei gironi come Dianon Kiev Astana Rennes e Jablonek che cazzo di gironi è o gironi come il Chelsea Pao Salonico Battebori e Vidi penso che il Chelsea abbia speso 20 milioni da andare lì alla UEFA così per metterli in un girone semplice il girone questo l'ha vinto Sarri perché con il Pao Salonico quella più forte cioè il Vidi vabbè ogni volta ogni anno c'è sempre da fare polemiche sui sorteggi ma e alla fine bisogna giocarsela sul campo se no è troppo facile parlare ai sorteggi quindi aspetto con ansia all'inizio della Champions e dell'Europa League come se vi è piaciuto mettete un bel like condividete e fate quel cazzo che volete dal vostro Oschi è tutto ciao a tutti belli e brutti a tutti